Ciao a tutti, Dreamlike Mulvidal benvenuto a questo video speciale perché ho un po' di cose da dirvi non so come dirvele però vabbè, nulla di grave, nulla di strano, non me ne andrò, il canale non chiude e niente di tutto ciò, però ho una novità prima di tutto, prima di dirvele, insomma vorrei però ringraziarvi tantissimo perché abbiamo già raggiunto e superato in realtà la quota 850 iscritti mai nella vita avrei immaginato di avere un così alto numero di iscritti per cui vi ringrazio davvero con tutto il cuore questo mi riempie di gioia, poi tutti i vostri commenti, il rapporto che c'è tra di noi anche se ultimamente non sempre riesco a rispondere ai commenti, anzi molto raramente però tengo conto comunque dei vostri consigli e soprattutto vi rispondo anche nei video per cui quando faccio un video cerco sempre di rispondere ai commenti che mi sono arrivati per cui grazie mille a tutti, siete una community perché ormai posso definirvi una community davvero fantastica vi abbraccio tutti uno per uno con immensa gratitudine davvero non so, non trovo le parole per esprimere quanto grata sono a tutti voi ognuno, uno per uno per 800 qualcosa, adesso non ricordo il numero esatto che abbiamo raggiunto in questi giorni però 800 e passi iscritti vi abbraccio tantissimo tutti quanti uno per uno, vorrei davvero essere lì fisicamente e abbracciarvi tutti quanti per cui detto questo, che ci tenevo veramente tanto a dirlo ho deciso di aprire un secondo canale quindi qua sta la novità dove parlerò anche di un'altra mia passione che io l'ho sempre stata fin da bambina praticamente mi ricordo di aver amato questa cosa ovvero leggere oltre che scrivere perché a me è sempre piaciuto tantissimo anche scrivere mia madre deve aver conservato i quadernetti dove scrivevo le mie storie da bambina storie insomma che erano scritte come erano scritte perché a sette anni uno non può scrivere bene giustamente scrive insomma semplicemente scrivevo le storie dei miei giocattoli in pratica creavo delle storie per loro ma vabbè a parte questo poi naturalmente andando avanti sono maturata a parte questo ho deciso di appunto aprire questo canale dedicato a recensioni di libri non so quanto spesso pubblicherò dipende da quanti libri riuscirò a leggere in un dato periodo dipende dal tempo che ho per registrare e poi editare il video insomma dipende da un sacco di fattori per cui non prometto alcuna programmazione non posso dirvi pubblicherò una volta al mese una alla settimana, una ogni due settimane una volta ogni due mesi non lo so è tutto da vedere ancora però c'è questo secondo canale e se la lettura è una cosa che appassiona anche voi vi invito a iscrivervi trovate ovviamente il link del mio secondo canale in descrizione per cui questo è tutto a dire il vero non devo dire nient'altro di particolare se non questo volevo avvertirvi di questa cosa per cui io spero di vedervi anche nel mio secondo canale per cui detto questo video brevissimo in realtà però volevo ci tenevo tantissimo a ringraziarvi tutti quanti e detto questo io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo mini video mini con la mia faccia spero che... vabbè la faccia che mi trova è questa non è che posso farci molto comunque ci vediamo alla prossima vi abbraccio un bacione enorme a tutti e vi auguro ovviamente lo sapete una stupenda, stupenda giornata ciao a tutti wegg slander, wegg slander qua canale ha spoccolare wegg slander, wegg slander lippo mippi's desire viagra 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 viagra